Morgan non potrà mai cantare in Veneto per via delle sue passate dichiarazioni sull'uso di droghe. Lo ha affermato il presidente della regione Veneto Luca Zaia intervenendo alla trasmissione radiofonica La Zanzara in onda su Radio 24. Morgan ha poco da dire, io sto con Tosi che in questo caso si è avvicinato alla questione come ogni amministratore pubblico dovrebbe fare, vietando il concerto a Morgan, ha detto Zaia. Il sindaco di Verona non ha legittimato comportamenti che non sono normali come l'uso della droga. L'outing del cantante fra l'altro è stato fatto male, un vero disastro mediatico. Per me Morgan non potrà mai cantare in Veneto. O meglio, lo potrebbe fare solo dopo aver dimostrato di avere intrapreso un serio percorso per allontanarsi dalla droga. Il suo messaggio, inutile girarci attorno, è stato devastante per i ragazzi, ha concluso il governatore della Lega.